a me ne avranno futura memoria di no a quello che ne viene a quello che ne viene perché non ho manco guardato se è regolata a me ne vedi E' fantastico Mangia, mangia, becora! Incazzare! 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 Le carbonate ci facciamo le scale fino a giù! Ma questa è una foto obbligatoria! Che cazzo è questo! Si! Ahahahah Guarda, fai di che va a gonfiare! Questo si chiama gonfiatore, non sgonfiatore Renato! E' il principio che cambia! E' un messo che io ti muovo, ci sono delle cose! Ma ti ho messo! Ma poi c'è la raga adesso! Ahah, adesso vieni! Ahah! Non c'è la delle riesce! Ahah! 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 Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS è in verticale dieci chilometri devo fare un po' di montaggio video devo levare tutte le femmine che ho ripreso dove entra se fai cima di video questa ormai sta sul tetto del mondo qua quindi se io mi giro sono fidanzato è fidanzatissimo ecco questa era nata però ripetiamo ripetiamo allora senti la mia ragazza che mi aspetta a casa il marocco il splendido panor però le donne là non le vedi mai colbinore no infatti no brutto è un po' di tozza è difficile ma assolutamente se non volessi ricevere niente ma fidanzata mia è proprio la mente eh, da posto la mia ragazza che mi aspetta a casa è un po' di tozza è un po' di tozza la mia ragazza che mi aspetta a casa è un po' di tozza la mia ragazza che mi aspetta a casa al finale è qua, al giro! no no What? Grazie.